Riscoprire eventi e personaggi del Risorgimento Lucano per alimentare la memoria e rafforzare l'identità. E' questo l'intento della pubblicazione Interviste sul Risorgimento Lucano, edita dal Consiglio regionale della Basilicata, che sarà distribuita gratuitamente durante la Kermesse torinese dedicata al libro. Il volume della collana Documentazione Regione, realizzato dall'Ufficio Stampa del Consiglio regionale, per contribuire alle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, ospita una serie di interviste a docenti universitari e esperti della materia. Un focus su avvenimenti e personaggi noti e meno noti del Risorgimento Lucano. Nella prima parte, docenti e storici si sono soffermati sul contesto storico del processo risorgimentale, mentre la seconda è dedicata ai protagonisti lucani dei moti insurrezionali. Dall'analisi compiuta dagli storici e dai docenti emerge la profondità di pensiero critico, la passionalità politica e l'ardore del sentimento patriottico di personaggi che hanno contribuito con il loro ruolo e le loro idee a quell'importante processo.